Bentornati amici sportivi in compagnia di questa AICS Roma Cup. È il giorno della semifinale al centro sportivo Cotral, categoria amatori. Si affrontano IBM United da una parte e Ingegneri Roma 4 dall'altra. Partita assolutamente fondamentale, tanta tensione. La finale di Freggene ormai è ad un passo. Le due squadre vorranno sicuramente darsi battaglia. Mentre è cominciato il match, primo possesso per gli Ingegneri Roma 4, pallone che si perde tra le braccia del portiere. Ora c'è Cappioli sul pallone, crossa al centro, Pulcini riesce a staccare, poi il pallone è ribattuto, ancora Pulcini. Miracolo di Santini. Ancora Ingegneri Roma 4 sull'acceleratore. E Dosa, Dosa è partito, palla al piede, il numero 9. Conclusione da fuori aria, si allunga parata plastica stavolta per Santini. Con le immagini, passiamo al secondo tempo. batte l'IBM United, pallone subito scodellato in avanti. C'è un calcio di punizione, Pini lancia lungo, trova Lupi all'interno dell'area di rigore. Attenzione, si lamentano per un contatto. Non viene assegnato però il calcio di rigore alla formazione bianco-blu. Mentre rivediamo nel replay un contatto che, sì, c'è stato, ma ci è sembrato quanto meno involontario. Ancora Cappioli, pallone per Dosa. Conclusione col Mancino, pallone che si perde alto sopra la traversa. Ancora Cappioli, interessante il pallone per De Santis. Non trova la coordinazione, il numero 73. Che pericolo per l'IBM United. Si va quindi ai tempi supplementari, partita inchiodata sullo 0-0. Lancio lungo, attenzione, la conclusione di De Santis. Il gioco era già fermo però, fuori gioco e quindi nulla di fatto. Secondo tempo supplementare, IBM in avanti. Controllo non impeccabile per gli ingegneri Roma 4. Palla dentro! Che cosa si è divorato! Il numero 23, Calamari. Un gol sembrava fatto. E questa era l'ultima occasione del match. Finisce 0-0 e si andrà quindi alla lotteria dei calci di rigore. Parte Moccia contro De Iorio. Conclusione! Immobile De Iorio, 1-0. Allora Cappioli va col destro, si allunga Santini. È il turno di Calamari. Rete, 2-0 IBM. Allora Tavani. Col destro ancora Santini! Ora tocca a Ciucci, con il destro. Portiere spiazzato, 3-0 IBM. Allora Valle Rotonda per tenere aperto il match col Mancino. Fermo stavolta Santini. È lo stesso Santini poi per la vittoria e la finale. Parte Santini! È l'IBM United! Vola in finale a Freggene! Andiamo tutti a Freggene! Diciamo che sono grande, sono il risultato di un lavoro settimanale molto assiduo. Ci siamo allenati molto sui rigori ultimamente perché comunque c'era la probabilità con questo tipo di finale di arrivarci. Comunque il caldo ci ha sicuramente massacrato, complimenti agli ingegneri, ma abbiamo vinto noi che siamo stati più tenaci. Alla prossima, alla finale!